La vicenda savonese si inquadra in maniera, tra virgolette, anomala in quella stagione della strategia della tensione. Indubbiamente il nocciolo di tutto è il periodo di novembre, quando vengono fatti gli attentati più mirati e più significativi. Cosa accade a novembre? La serie di attentati rivendicati con dei volantini intitolati che richiamavano anche ad una possibile strage per un Natale di sangue del 74 a Savona e vennero rivendicati da Ordine Nero e da Ordine Nuovo con due distinti volantini. Questi attentati colpiscono degli obiettivi che se rileggiamo e vediamo quella che è stata la strategia della tensione sono stati gli obiettivi classici, la piazza con le manifestazioni, piazza della loggia, la banca, i treni e vari altri obiettivi a Savona vengono replicati perché viene colpita una scuola alla Guido Bono dove si era appena conclusa un'assemblea sugli allora decreti delegati con un centinaio di persone. La bomba esplode poco più di mezz'ora dopo la conclusione di questa assemblea e la strage è sfiorata. Vengono colpiti edifici civili di abitazione, via Giacchero e alla Villetta. Viene colpito e viene sfiorata la strage che doveva essere la classica strage del modello terroristico neofascista di quegli anni del treno. Il fatto che la bomba esploda, l'esplosione venga notata da un testimone, da un contadino della zona e dall'allarme evita fermando il treno probabilmente almeno 20-30 morti che erano i passeggeri che si trovavano sul treno che era diretto a Savona. Se può sembrare in qualche modo forse assurdo ma non lo è, questa è una chiave di lettura che spiega la mancanza dei morti, una sola vittima e paragonando le cose anche a quello che era il mondo mediatico dell'informazione dell'epoca, molto più limitato di quello attuale perché Savona da un lato per una probabilmente anche strategia non investigativa dei primissimi momenti, non ha avuto risalto, non ha presenza praticamente se non molto limitata nei documenti della commissione stragi, non diventa un vero caso nazionale. E poi Savona, l'altro aspetto che possiamo vedere poi poco più avanti e che ne sono convinto e lo testimoniano poi le indagini fatte negli anni successivi e qualche studio fatto sulla vicenda savonese in chiave locale è stata utilizzata come un banco di prova. Per vedere come avrebbe potuto reagire una realtà sociale e politica molto particolare ad una serie ravvicinata di attentati di questo tipo, probabilmente nelle tensioni degli esecutori e di chi li ha ideati, c'erano i morti, c'era il clima di terrore oggettivo che si è creato per molti giorni in città, la reazione fu quella proprio poi della famosa vigilanza popolare antifascista, una vicenda pressoché unica, se non unica in Italia, in una realtà sociale che era ancora connotata da una notevole presenza del mondo del lavoro industriale, del movimento operaio, dell'FLM, del tessuto sociale dell'associativo, la società di motosocorso, le sedi dei partiti, non va dimenticato che tra PC e DC all'epoca avevano più di un centinaio di sezioni sul territorio della provincia di Savona, una buona parte concentrata nell'area savonese e nella sua periferia. Indubbiamente una prova su una realtà, tra virgolette, periferica dal punto di vista geografico a livello nazionale, ma molto particolare dal punto di vista politico per la storia della città e per quello che era il momento politico e sociale dell'epoca, conferma e significa come Savona sia stato un banco di prova e forse anche perché a livello investigativo prima, non tanto dopo, ma nell'immediato, non ci sia stato quell'approfondimento che avrebbe potuto far emergere questa cosa, perché tutte le indagini nel primo momento furono fatte in maniera limitata, con scarsa competenza, poche persone ci misero veramente l'anima e la capacità con i mezzi pochi che c'erano all'epoca anche a livello tecnologico e ogni fatto venne preso come un evento a sé stante. Si concluse con un'archiviazione perché il problema è che giustamente un'indagine non deve trovare un colpevole a tutti i costi, ma deve cercare il più possibile la verità. Savona è un caso emblematico di mistero in cui la verità giudiziaria non combacia con quella storica, non solo perché non c'è stata la possibilità di individuare un responsabile materiale e concreto, ma perché c'è stata una lacuna, a parte gli ultimi anni, enorme da parte dello Stato sul fronte della volontà di fare luce su queste vicende. A ideare una strategia di questo tipo non poteva essere stato un esponente, un gruppo, qualcuno a livello locale di basso profilo. Se è vero come le indagini in parte hanno confermato che la manovalanza che poi ha materialmente messo gli esplosivi e fatto gli attentati, utilizzando esplosivi spesso utilizzati anche dalla malavita per gli attentati, esplosivi da cava, l'ipotesi che sia stata utilizzata una mano d'opera legata anche alla malavita, alla prima malavita organizzata delle cosche che operavano nel ponente savonese, è solo un aspetto, l'aspetto delle bombe bianche è che Savona è stato un banco di prova e questo banco di prova l'ha ideato qualcuno, l'hanno ideato evidentemente elementi legati ai servizi segreti deviati, alle vicende legate come analizza Triveloni e come analizzò anche Niccolò Bozzo, ex generale dei Carabinieri, collaboratore della Chiesa, investigatore a Savona, a strutture legate alla P2 e alla massoneria deviata. Non ci sono, è bene dire dal punto di vista della cronaca oggettiva investigativa e elementi di collegamento, però oltre che essere sede con la sua provincia storicamente eradicata della massoneria tradizionale è stata anche espressione di quella deviata. Savona aveva avuto la presenza dei CAD, i centri di azione democratica 2, che erano, secondo gli investigatori, secondo quello che aveva evidenziato nella parte sua di indagini all'allora colonnello Bozzo, un'espressione e un collegamento della P2 e comunque di questo mondo. Gli attentati sembrano fatti da dei fantasmi, da degli esseri inafferrabili, perché la città viene colpita in sequenza, abbastanza ravvicinata, ma è questa proprio inafferabilità o apparente inafferabilità degli esecutori, degli obiettivi che crea il clima oggettivo di paura e di terrore in città, che viene a svilupparsi proprio per gli obiettivi che vengono colpiti, obiettivi che possono essere quelli più, il termine forse non è molto felice, ma banali, semplici, la casa, la scuola, la ferrovia, che così ravvicinati e messi insieme, al di là del momento della paura, chi riflette, capisce che Savona esprime in quell'arco di tempo, di giorni molto concentrato, tutto quello che sta accadendo in giro per l'Italia in quel momento con la strategia della tensione e con gli attentati terroristici neofascisti. E c'è anche un'altra ipotesi sulla vicenda savonese, che non è stata approfondita a livello investigativo, che ha un suo fascino dal punto di vista dell'indagine storica e giornalistica e una sua oggettività nei fatti, e che venne sviluppato in un ampio servizio giornalistico dalla rivista Maki, che faceva un'ipotesi di collegamento degli attentati savonesi del possibile banco di prova, ma comunque con la presenza dell'allora base nato di Pian dei Corsi sulle alture di Finale Ligure. Questa inchiesta giornalistica con molti dati, molti elementi di riferimento, aveva un titolo anche un po' suggestivo che diceva se quei missili fossero caduti in mano ai partigiani o alla sinistra. Che ci sia stata una riflessione a distanza di qualche anno dai fatti su Finale Ligure e su Pian dei Corsi, c'è da dire oggettivamente che la Dora PC e il PDS poi fecero, se non ricordo male, nel decennale degli attentati, uno studio su Pian dei Corsi, un librettino che ne parlava, faceva storicamente anche il collegamento con le vicende savonesi. Diciamo che questo è uno degli altri aspetti bianchi delle bombe di Savona. La città ha avuto questa prima reazione, un po' di nascondersi e di avere paura. Non è un giudizio negativo, è la realtà di fatti ed era l'obiettivo che evidentemente cercavano gli autori, gli ideatori di questa vicenda. Ed è quindi che a valore ribadisco l'analisi di Trivelloni, il discorso delle bombe bianche, i servizi dei veati, la vicenda Gladio non dimentichiamola, la P2, tutta una storia che ha un unico filo conduttore di deviazione e di attacco al sistema democratico del nostro Paese. La svolta qual è stata rispetto a questa dinamica che portava a far credere o a instillare la paura che poteva essere chiunque ad essere colpito e chiunque a colpire con una conoscenza della città. Perché è vero che Savona è un fazzoletto, è una piccola città, però comunque bisogna conoscere il territorio per colpire e muoversi. Perché se è stata manovalanza, tra virgolette, quella più bassa che magari ha messo materialmente le bombe e gli ordigni, senz'altro non lo era da manovalanza il cervello o i cervelli di chi ha ideato queste cose. E non è un caso, non solo per la scarsa ricaduta mediatica dell'epoca dei fatti al di là dei giornali locali, che ci sia pochi elementi in commissione stragi come evidenziarono l'allora onorevole Michele Del Gaudio, l'avvocato di Bologna che segue le famiglie delle vittime di Savona di altri attentati neofascisti. Savona ha saputo per quella che era la sua realtà sociale e politica dell'epoca e che era stata evidentemente sondata e provocata con questi attentati, reagire a questa paura e non so se oggi sarebbe mai possibile una cosa del genere o qualche anno dopo se fosse stata possibile. Senz'altro all'epoca fu possibile anche indirizzarla non politicamente in un modo specifico, ma indirizzarla politicamente nel senso della partecipazione e della reazione collettiva, cosciente, superando la paura e vincendo questa scommessa sul, ricordo ancora, il possibile mostro della porta accanto e comunque che ce li avevi in casa e che potevano colpire chiunque con la vigilanza popolare antifascista. Nasce con un grosso contributo dell'FLM, la loro federazione unitaria dei lavoratori metallomeccanici, nasce in quella che era l'ex silva, nasce nell'assemblea Vado, nasce al liceo scientifico con un'assemblea di studenti. Le prime manifestazioni e questa vigilanza popolare antifascista che non ha avuto una virgola di sbavature e di deviazione. Non c'è stato chi ha avuto la vocazione allo sceriffo che si è messo, detto brutalmente, un bastone in tasca e il primo che passava di noto di giorno che poteva avere una faccia sospetta gli dava la randellata. Assolutamente no, è stata organizzata, c'era una struttura sul territorio importante, c'erano cento e passa sezioni di partito che si sono mobilitate, c'erano le società di mutuo soccorso, la croce bianca, la croce rossa, le parrocchie, ogni posto di questo genere che rappresentava un momento di aggregazione. I consigli di quartiere che erano una cosa diversa dalle circoscrizioni asfittiche di oggi o di quello che è stato poi l'evoluzione meno partecipata rispetto alle origini. Savone è stata una delle prime città a esprimere un'esperienza di questo tipo ed è stata anche studiata a livello nazionale, venne studiata dalla Bocconi, venne studiata dall'Università di Bologna questa esperienza nascente e prima dei consigli di quartiere. Questo ha consentito di incanalare la paura di far diventare coscienza e partecipazione, possono sembrare parole vuote o un modo di dire un po' datato, non è vero. È stata figlia del suo tempo e di una realtà che oggi non c'è più, oggi accadesse una cosa del genere, la gente sono convinto che si chiuderebbe e ci richiuderemo in larga parte in casa, privarebbe la paura, l'interesse personale. All'epoca questa diversa connotazione sociale e in generale politica della città ha consentito questo tipo di reazione. Io non nascondo che ho avuto i primi giorni, sì, seguivo le cose, ma avevo il timore e la paura come gli altri, perché bastava il bang di un aereo che passava che rompeva il muro del suono e subito uno pensava all'attentato. Cioè qualsiasi cosa anomala ai primi giorni in quel momento era vissuta veramente con i nervi a fiori di pelle e inovviamente la paura c'era, è inutile nascondersela. L'emblema di Savona, di cosa è successo 40 anni fa, qual è? È molto amaro dirlo, il cipetto che c'è all'incrocio tra Corso Mazzini e via 20 Settembre, che ricorda Fani Dallari, l'unica per fortuna vittima degli attentati di Savona nell'attentato in via Giacchero. Un cipetto messo in un angolo, un po' scolorito, se oggi fermiamo dieci persone, in maniera eterogenea, come età, ricordando, chiedendogli a chi si riferisce cosa è successo, senza fargli leggere, e non c'è difficoltà perché le scritte sono scolorite ormai su quel cipetto, quel monumento, io sono convinto che 8 su 10, per non dire 9, e voglio essere ottimista perché uno lo troviamo, ci dice quello che è successo.